Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Come vedete anche questa sera abbiamo pochi ingredienti ma veramente ottimi. Qui abbiamo dei prodotti, alcuni dei prodotti del nostro orto e alcuni dei prodotti delle nostre collaborazioni. Questi sono dei prodotti del Gruppo Caro, le spiegazioni le vedrete nell'info box. Tutti gli accordi commerciali stanno nell'info box. Esatto e anche questo fantastico Merlux lo abbiamo preso dal nostro pescivendolo di fiducia della Crai. Sulla salaria a Montrador. Esattamente. Nell'info box vi metto tutti gli altri negozi che hanno in giro per il Lazio e province di Roma. Nell'azio. Allora, cosa andremo a fare? Andremo a fare dei bocconcini di merluzzo alla... a modo mio. Ah. Esattamente. Quindi sono unici? Credo di sì, non so se qualcun altro li ha già fatti, non ne ho idea, però a me è venuta in mente questa ricetta e quindi automaticamente voglio farla. Quindi la ricetta è inventata comunque. Sì, questi bocconcini di merluzzo possono essere utilizzati in due modi, o li mangiate come secondo o li mangiate come primo, nel senso che se aggiungete a questo sugo della pasta, ecco lì che potete usarli in tutti e due modi. Allora, che cosa dobbiamo fare? Per prima cosa dobbiamo far soffriggere due cipolle, belle grandi, guardate quanto sono belle le nostre cipolle, sono bellissime, insieme a due pomodori san marsano tagliati a cubetti e un pezzettino piccolo di peperoncino, anche questo è del nostro orto. Dopodiché, in base a quanto pomodoro, insomma a quanto sugo volete mettere, per esempio noi adesso useremo anche un altro tipo di pomodoro in bottiglia, che abbiamo utilizzato già in altre occasioni, molto buono. E noi useremo, è già una bottiglia piccola, noi useremo mezza bottiglia. Ovviamente dell'olio, ovviamente dobbiamo prima assaggiare come è salato questo merluzzo e poi eventualmente aggiungere il sale, perché mi raccomando assaggiarlo, perché il merluzzo purtroppo ha questa proprietà, che anche se è dissalato, a volte rimane troppo salato, quindi è bene sempre prenderne un pezzettino e assaggiarlo. Le olive le mettiamo successivamente, perché? Perché non voglio togliere a queste olive, vedete sono olive miste, ci sono dei capperi, dell'aglio, del peperoncino, sono buonissime. Non voglio togliere la freschezza di queste olive, quindi le metteremo praticamente a fine cottura. Allora, andiamo a pulire immediatamente le cipolle e ci vediamo sui fornelli. Abbiamo fatto ingiondire la cipolla con abbondante olio, come potete ben vedere, e adesso ho messo i san marzani a tubotti. A questo punto, come vi ho detto prima, metto un pochino di pastata, poca, diciamo un bicchiere più o meno. Ma questo solo perché in casa nostra piace molto sugosa, ok? Voi, se volete, potete mettere invece di due grossi san marzano, ne mettete, che ne so, 4-5, e con lì che avrete lo stesso risultato. Guardate che bella già, eh? Così. Ho fatto a cubotti il baccalà e adesso abbasso il fuoco, lo lascio un pochino, metto solamente un pizzico di sale perché ho assaggiato il baccalà. Ed è bello saporito, quindi proprio appena appena tanto per insaporire il sugo. Peperoncino e aglio non sono necessari, in quanto io metterò delle olive condite con peperoncino, aglio e origano, ok? Quindi non ce n'è bisogno di metterne ulteriore. Peperoncino poi vedrò perché qua a casa nostra piace molto piccante e quindi vediamo un attimino poi successivamente, quando il piatto, quando il sugo è quasi pronto, va bene? Ci vediamo tra qualche minuto. Quindi è una ricetta comunque molto veloce, vedo. È molto veloce, basta far ammalvire la, prima rosolare e poi ammalvire la cipolla, mettere i pomodori, mettere il passato, lasciare per qualche minuto perché comunque poi dopo questa deve far da condimento al pesce. A dopo. Come vedete ho messo dei pezzettini piccoli, questi sono, diciamo, i pezzettini che rimangono della pulitura del pesce, nel senso quando ho tolto la parte con la spina, eccetera, eccetera. Per non buttarlo, ovviamente li ho messi prima, in maniera che così vanno a far parte del sugo. Qui c'è un pezzettino di peperoncino perché ho assaggiato le olive, le sto mettendo, e non sono proprio molto piccanti, quindi, eccole qua. Allora, diciamo, un etto e venti più o meno di olive, un etto e mezzo al massimo, eh. Olive condite, mi raccomando, olive condite. Guardate che meraviglia. Sì. Ecco, fate come me che buttate la cipolla per terra. Io con un po' di pane, è una bella scarpetta. Lo sapevo, io ti stavo aspettando, guarda, al barco proprio. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo a mettere il nostro merluzzo. E io lo disporrò in maniera che rimanga intatto. Nel senso, non voglio che diventi tutto un papocchio, no? Vorrò vedere i pezzi interi nel nostro sugo, nel nostro spezzatino di merluzzo, ok? Ragazzi, fate un salto in questa pescheria, perché veramente, guardate che bei tocchi di merluzzo. No, bellissimo. E poi è proprio buono. Fresco, fresco. Ecco. A questo punto, mettete al minimo, coprite con un coperchio, e lasciate così per qualche minuto, diciamo, 4-5 minuti. Dopodiché, lo giriamo insieme. A dopo. Eccoci qua. Adesso li giriamo, vedete? Bastano veramente pochi minuti e già si rompono, perché il baccalà, il merluzzo è così. Ecco. Cosa dicevo, ho fatto dei cubotti, perché in questo modo magari un pochino mantengono la consistenza. Più piccoli si sarebbero totalmente rotti. Assolutamente. Sarebbero diventati poltiglia, proprio. Eccoli qua. Mi raccomando, piano piano. Che per me è una cosa proprio fuori dal comune, piano piano. E a questo punto sono cotti, quindi alzo la fiamma al massimo, e faccio asciugare un pochino l'acqua del sughetto. Quindi ci vediamo per l'assaggio. Ci vediamo per l'assaggio. Silvia, sei un fenomeno. Da baraccone. No, 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 no. Come si fa a non amare una donna così? Eh, certo. Ha milioni di altre doti, ma quando si mette in cucina è un fenomeno. Tutta sta manfrina perché vuoi assaggiare, vero? Non quel piatto, quel pezzo che sta facendo. Ah, no, perché c'è l'oliva, non ti piace? No, perché c'è il pomodoro. Ma c'è il pomodoro cotto. Allora, prendiamo solo il pesce così. Bravissima. Ecco. Vedete, è rimasto bello compatto, eh? Guarda che scotta. Dice che è buono. Mi vuoi sposare di nuovo? Come no? No. Ci vediamo alla prossima ricetta, ora noi andiamo a litigare. Ciao a tutti. Ciao, no, no, sto scherzando. Comunque, è spettacolare. Alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.